buongiorno buongiorno qual è il prodotto che vende di più? eh guardi sono le nostre paste la pasta con la crema limone alla nocciola pistacchio e poi abbiamo panna e zabbaglione che sarebbe questo e questo è solo zabbaglione la nostra bella pasta al cioccolato panna e crema la mimosa panna solamente crema poi i vinieri san giuseppe poi i vinieri san giuseppe perché ora è proprio il momento la zeppola con la marmellata di pisciolo sopra